Siamo vicini a Capodanno, ci sono comuni che emettono ordinanze per vietare l'uso dei botti. All'Effe avete in programma qualche provvedimento in questo senso? Ma all'Effe, come credo un po' in tutti gli altri paesi, questo limite, questo divieto esiste già nel regolamento di polizia, quindi diciamo che l'ordinanza va così ad avvalorare o a sottolineare questo divieto. Io colgo l'occasione e ringrazio Antena 2 per questa possibilità per fare più che altro un appello ai cittadini di l'Effe, ma di tutta la Val Gandino, tant'è che ci si è sentiti anche fra sindaci in qualche modo e l'opinione comune è quella comunque di fare un appello e di far valere quello che è il regolamento di polizia. Devo dire che poi soprattutto in questo periodo con la questione di inquinamento che nelle grosse città in particolare sta attanagliando un po' quelli che sono gli impegni da parte delle amministrazioni. Anche noi qua in Val Gandino, proprio per la nostra conformazione geografica, non siamo esenti da questo tipo di problema. Sappiamo che gli inquinanti maggiori sono sicuramente i fumi di scarico delle auto, gli riscaldamenti, le attività produttive che seppur sono calate magari in questi decenni fortunatamente da un lato resistono, ma io direi facciamo appello appunto al buon senso della gente affinché l'ultimo dell'anno in particolare venga così meno questa tradizione che si è consolidata in questi ultimi anni. Io da quando ero piccolo non ricordo che ci fossero scoppi, fuochi d'artificio l'ultimo dell'anno, ci siamo un po' meridionalizzati in questo senso, ricordo solo le notizie che si facevano al telegiornale dei danni che c'erano a Napoli piuttosto che nella città del sud. Noi abbiamo copiato questa cosa, devo dire che è una brutta cosa da un punto di vista del disturbo che si arreca agli animali, perché effettivamente chi ha un cane ad esempio sa quanto gli animali soffrono. E' un disturbo della quiete pubblica appunto, dell'inquinamento e anche del pericolo di incendi, perché comunque in un periodo secco come questo il rischio che ci possono essere degli incendi è molto alto. Quindi io faccio proprio un appello a tutti i leffesi e a tutti i cittadini del Val Gandino, ma sicuramente a tutti, affinché all'ultimo dell'anno lo festeggino sicuramente in compagnia facendo un brindisi in più magari, ma scoppiando un morteletto in meno.